Con il termine di ernia iatale si intende la risalita di una parte di stomaco nel torace attraverso i pilastri del diaframma. Abbiamo fondamentalmente tre tipi di ernia iatale, un'ernia iatale da scivolamento che è la più frequente, un'ernia iatale paresofagea dove l'aggiunzione esofago cardiale può rimanere in sede e parte del corpo gastrico risale in torace e poi abbiamo un'ernia iatale di tipo misto. Nella maggior parte dei casi l'ernia iatale è legata a un cedimento delle strutture che trattengono lo stomaco in addome, l'obesità è una condizione che favorisce la comparsa di un'ernia iatale aumentando notevolmente la pressione addominale. L'ernia iatale ha un'incidenza nel normotipo di circa il 20% dei casi. Nel paziente obeso l'ernia iatale può arrivare al 30-35% dei pazienti. L'ernia iatale solitamente si accompagna a una serie di sintomi che possono essere la pirosi, il dolore epigastrico, il dolore toracico, l'erutazione è un altro sintomo abbastanza frequente. Lo stomaco si riempie d'aria, il paziente avverte dolore, con l'erutazione la parte di aria all'interno dell'ernia iatale si svuota e il paziente ovviamente sta meglio. Altri sintomi legati all'ernia iatale possono essere la disfagia o nel caso in cui la valvola che si trova tra l'esofago e lo stomaco, cioè lo sfintiere esofageo inferiore, non funzioni, l'ernia iatale si può accompagnare anche al reflusso gastroesofageo con sintomi come appunto il bruciore retrosternale, una tosse stizzosa, bruciore alla gola, tosse notturna e rigurgito. Per diagnosticare un'ernia iatale è fondamentale una radiografia del tubo digerente con mezzo di contrasto idrosolubile. Questo ci permette di identificare la morfologia della nostra ernia iatale. Un altro esame fondamentale è la gastroscopia che ci permette di identificare ovviamente l'ernia iatale ma soprattutto sia questa ernia iatale associata anche un reflusso gastroesofageo con la comparsa o meno di esofagite. Se vogliamo essere ancora più accurati l'esecuzione di un attacco a torace e addome ci dà ovviamente un ulteriore imaging della nostra ernia iatale. Una volta stabilita la presenza di un'ernia iatale ovviamente si può ricorrere a una dieta particolare perché una dieta povera di grassi, di fritti, bisogna eliminare le bevande gasate, ridurre l'utilizzo di caffè, tè, cioccolata, menta e di tutti quei cibi che possono ulteriormente produrre una maggior quantità di gas. Si possono utilizzare anche dei farmaci come dei procinetici che migliorano lo svuotamento gastrico o l'utilizzo di antiacidi o inibitori di pompa protonica nel caso in cui l'ernia iatale sia anche associata al reflusso gastroesofageo. In presenza di reflusso gastroesofageo è anche importante eseguire un altro esame diagnostico che è la manometria esofagea. Questa ci permette di vedere la motilità del corpo gastrico e misurare la pressione della valvola che si trova tra l'esofago e lo stomaco, cioè lo sfintere esofageo inferiore. In presenza di una valvola con una bassa pressione ovviamente bisognerà procedere a un intervento chirurgico che prevede non solo la riparazione dell'ernia iatale attraverso la chiusura dei pilastri del diaframma con dei punti e al limite anche l'utilizzo di una protesi. Ma a questo paziente andrà associata anche una plastica antireflusso, cioè un affundoplicazio, per evitare la comparsa e la persistenza del reflusso gastroesofageo postoperatorio. Ora l'ernia iatale abbiamo visto che è la risalita di una parte di stomaco in torace. Il reflusso gastroesofageo invece è legato a un'incompetenza della valvola che si trova tra l'esofago e lo stomaco, cioè lo sfintere esofageo inferiore. Il reflusso gastroesofageo compare in circa il 20% delle persone, il sovrappeso e l'obesità possono peggiorare questa condizione, questa patologia, arrivando fino a interessare il 40% della popolazione. L'ernia iatale può favorire ovviamente un reflusso gastroesofageo. In presenza di reflusso la terapia chirurgica è indicata ovviamente quando la terapia medica non è in grado di risolvere il problema. L'intervento principale è la fundoplicazio eseguita per via laparoscopica che a seconda del valore manometrico della motilità dell'esofago e della pressione della valvola che si trova tra esofago e stomaco, cioè l'S, lo sfintere esofageo inferiore, noi potremmo eseguire una plastica totale a 360 gradi chiamata plastica secondo Nissen Rossetti, una plastica posteriore a 180 gradi, cioè una plastica secondo Toupet, o una plastica posteriore a 270 gradi secondo Lind. Per prevenire il reflusso è importante un corretto stile di vita, soprattutto un buon regime alimentare. Bisogna evitare i grassi, i fritti, le bevande gasate, gli alcolici, il fumo di sigaretta, i formaggi grassi, gli agrumi. È anche fondamentale ovviamente eseguire un buon esercizio fisico e cercare di evitare di sdraiarsi subito dopo aver pranzato o cenato. La dieta può anche accompagnarsi a una terapia medica, terapia medica che può prevedere l'utilizzo di farmaci procinetici che aumentano lo svuotamento dell'esofago e dello stomaco, per cui limitando il reflusso gastroesofageo, o l'utilizzo di farmaci come gli inibitori di pompa protonica che sono in grado appunto di contrastare la formazione di acido e la sua risalita nell'esofago.